Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato presso un capannone di Nola, nella disponibilità di una ditta cinese di import-export, oltre 570.000 prodotti pericolosi e privi del marchio C. In particolare, il gruppo della Guardia di Finanza di Nola, nel corso di un accesso presso un deposito con sede nella frazione di Piazzolla di Nola, ha scoperto utensili domestici, materiale elettronico e giochi per bambini pericolosi. Dai giocattoli, composti con materiale non certificato, ai addobbi natalizi, oltre 3 km di LED, pannelli, ciabatte, torce, mouse e chiavetto USB, ai prodotti di utilizzo quotidiano come calcolatrici, portafogli, orologi, aspirapolveri, sensori per allarme, denunciato il responsabile, un 38enne cittadino di origine cinese, residente nel quartiere Poggio Reale di Napoli, per vendita di prodotti industriali, consegni mendaci. L'operazione rientra nell'ambito della costante attività di prevenzione e repressione dalla contraffazione da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a tutela del regolare svolgimento del libero mercato, delle imprese oneste e a garanzia della salute dei consumatori.